Buongiorno a tutti, sono il dottor Luca Tonietti, dottoreante di Astrobiologia presso l'Università degli Studi di Napoli, Partenope, e collaboratore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. La presentazione di oggi è promossa dal piano laurea scientifiche, sempre presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, e parleremo principalmente della ricerca e lo studio della vita nel cosmo, e quindi degli estremofili, degli ambienti estremi, e di alcuni analoghi planetari. Tutto quello che diremo oggi, sotto cosa ricade, ricade sotto il termine appunto di Astrobiologia. Ma, che cos'è l'Astrobiologia? L'Astrobiologia è una scienza multidisciplinare che si occupa di studiare l'origine, l'evoluzione e la distribuzione delle forme di vita nell'universo, nel cosmo intero. E oltre a questo si occupa anche di studiare i limiti chimico-fisici a cui gli organismi e gli esseri viventi sulla Terra, e nel cosmo sono sottoposti, possibilmente nel cosmo sono sottoposti. Oltre a fare tutto questo, l'Astrobiologia non si occupa soltanto di ricerca di base, ma si occupa anche di supporto all'esplorazione e alla colonizzazione spaziale da parte dell'essere umano. Colonizzazione di cosa? Principalmente della Luna e di Marte in questo momento, ma si spera in un futuro, nella colonizzazione di corpi celesti più lontani, come ad esempio i satelliti giovani o i satelliti di Saturno. Come abbiamo avuto modo di dire, è una scienza multidisciplinare, perché? Perché è l'insieme di diverse discipline. Gli astrobiologi tendenzialmente sono degli scienziati generalisti, e infatti si possono occupare di matematica, fisica, chimica, biologia, geologia e quant'altro. Non solo scienze dure o scienze pure, ma anche antropologia e sociologia, quindi scienze sociali. Ma quali domande si pone l'astrobiologia? Quali domande tenderemo di rispondere oggi? Beh, prima di tutto, che cos'è la vita? Perché per cercarla nel cosmo dobbiamo prima definirla. Quindi, oltre a che cos'è la vita, dobbiamo capire quale definizione dargli. Dopodiché ci chiederemo, quale vita cerchiamo nel cosmo? Cerchiamo organismi superiori? Cerchiamo microrganismi? Cerchiamo funghi? Cerchiamo virus? Cosa stiamo cercando? E soprattutto, dove la cerchiamo? La cerchiamo ovunque nel cosmo? Ci sono dei luoghi specifici in cui potremmo cercarla? O magari partiamo appunto dalla Terra? E dato che il cosmo è comunque un insieme di ambienti molto estremi, per chi conosce un po' di astronomia, sa che nei nostri otto pianeti ci sono differenti parametri ambientali, parametri caratteristiche chimico-fisiche, dobbiamo studiare gli ambienti estremi, quindi che cosa sono gli ambienti estremi? E ci chiederemo anche, la Terra è un ambiente estremo? E sì, quali sono i limiti chimico-fisici della vita sulla Terra? E una volta che abbiamo capito questo, ci chiederemo, e quali sono i limiti chimico-fisici nel cosmo? Ok? Quindi, che cos'è la vita e qual è la sua definizione? Per capirlo dobbiamo partire un po' indietro nel tempo. Partiamo da Democrito, quindi siamo nel circa 400 a.C., siamo comunque prima della nascita di Cristo. Democrito è stato un allievo di Leucippo, famoso per aver fondato l'atomismo, la teoria secondo la quale la materia è composta da atomi, cioè piccole particelle indivisibili, da atomos in greco che è privo di divisione, e Democrito sosteneva che, se tutto l'universo è costituito da atomi indivisibili, e la vita stessa è fatta di atomi, allora la vita necessariamente deve esistere in tutto l'universo. Se l'universo è composto da atomi e la vita è composta da atomi, allora la vita deve essere presente in tutto l'universo. Al contrario di Democrito, Aristotele invece, anche lui famoso filosofo della Magna Grecia, sostiene invece l'immutabilità e la perfezione dei cieli, che secondo lui sono composti da etere o quintessenza. Quindi sostiene che ogni elemento tende a un suo unico centro del moto, e quindi non possono esistere altri mondi oltre al nostro. Quindi due visioni completamente opposte. L'arrivo del cristianesimo, la versione e la visione aristotelico-tolemaica della realtà diventa quella comunemente accettata, si pensa che la Terra sia al centro dell'universo, quindi è una teoria geocentrica, in cui la Terra è appunto al centro, e quindi ancora una volta riprende le teorie di Aristotele, in cui l'importanza fondamentale è la Terra e l'essere umano, per cui non possono esistere altri mondi. Il primo, dopo Democrito, che ha iniziato a ipotizzare l'esistenza di forme di vita oltre alla Terra, è stato Giordano Bruno. Giordano Bruno, infatti, anch'esso affermava l'esistenza di infiniti mondi, ma a causa delle sue teorie un po' controverse all'epoca, è stato eliminato, poverino, con la lingua in Giova, in Piazza dei Fiori, a Roma, ed è stato arsovivo, ahimè. Nei decoli successivi, però, altre persone hanno sostenuto le teorie di Giordano Bruno, come ad esempio Voltaire e Fontanelle, due personaggi abbastanza famosi. Quindi, arrivando all'epoca contemporanea, verso la fine del 1800, Schiapparelli, che era un astronomo, è stato il primo ad osservare Marte, è stato il primo ad osservare e dare delle indicazioni sul pianeta rosso. Cosa ha osservato Schiapparelli su pianeta Marte? Tramite le sue osservazioni si è accorto della presenza di canali. La scoperta dei canali ha aperto un nuovo dibattito sulla vita nell'universo, perché? Perché si pensava che questi canali fossero, possibilmente, di origine artificiale, quindi fossero stati creati da forme di vita presenti su Marte. Un sostenitore è stato Percival Lowell, è stato uno dei più grandi sostenitori di questa teoria, ma nel 1960, grazie alle sonde Mariner, si è scoperto che non è presente vita su Marte, almeno in forma macroscopica, quindi qualcosa che possiamo vedere. Nel dibattito su che cos'è la vita e l'origine della vita, a un certo punto è arrivato Charles Darwin. Charles Darwin, molto famoso nell'ambito biologico, ma famoso in tutto il mondo per le teorie evoluzionistiche, introduce appunto l'idea di evoluzione. Gli organismi viventi sono in grado di evolversi, si sono evoluti nel corso del tempo. Oltre a questo, contemporaneamente, dalle teorie evoluzionistiche di Darwin, è nata la spettroscopia, una tecnica ottica che ci permette di fare analisi dalla Terra di possibili pianeti, ma anche di altri tipi di analisi, di tipo biologico e chimico. Quindi la vita inizia ad assumere nuovi aspetti, non è più una mera speculazione, ma si possono fare anche degli esperimenti. Dopo di loro è arrivato Pasteur. Pasteur ha dimostrato, ad esempio, l'impossibilità della biogenesi, che la vita nascesse spontaneamente dal nulla. Si sa oggi che la vita sia probabilmente nata tramite una serie di reazioni chimiche che si sono potute formare all'interno di rocce, nei mari primordiali, ma questa non è a biogenesi. Si pensava proprio che la vita potesse nasce all'interno del nulla, ma Pasteur ha dimostrato l'impossibilità di questo fenomeno. Nel 1900, la corsa alla vita nell'universo è diventata poi sfrenata, tutti hanno tentato di trovare la vita nell'universo, e ad esempio personaggi molto importanti come Marconi o Cocconi e Morrison hanno addirittura cercato di captare dei segnali radio da Marte, purtroppo senza successo. Dopo di loro, nell'età contemporanea, Drake, che è stato per esempio uno dei fondatori del SETI, addirittura ha sviluppato una famosa equazione che, se inseriti alcuni parametri particolari, definisce la probabilità di trovare la vita nell'universo. Se qualcuno fosse interessato, su internet ci sono degli ottimi siti web in cui si possono inserire i parametri per avere delle probabilità. Il SETI è un centro di ricerca della vita extraterrestre che esiste tutt'oggi, che si occupa appunto di studio dell'astro biologico e studio di segnali radio provenienti dallo spazio profondo, nonché anche di invio di segnali radio. Infatti nel 1974 è stato inviato il primo segnale, appunto, radio, verso altre civiltà. Non si sa se sia mai stato captato da qualcuno, speriamo. Quindi, riassumendo un po', quali definizioni sono state date di vita? Aristotele, nel 350 a.C., ha definito la vita come un corpo che si nutre e poi declina in un tempo definito. È una definizione giusta, in poche parole dice che un organismo nasce, cresce, corre e muore, un po' come le pubblicità che vediamo in televisione. Soltanto che è una definizione che non è sufficiente per dare una spiegazione logica a che cos'è la vita, non è una definizione universale. Passano più di mille anni, ci sono state altre teorie nel mezzo, ma quelle importanti sono queste, Engels, nel 1894, ha ipotizzato che la vita fosse semplicemente l'esistenza di forme strutturali proteiche con componenti chimiche rinnovabili. Quindi la parola chiave è proteine. Il fatto è che nel 1894 il DNA non era ancora stato scoperto, quindi gli acidi nucleici ancora non si sapeva che fossero fondamentali per la trasmissione dell'informazione del patrimonio genetico. Schrödinger, fisico, nel 1944 definì la vita come entità ordinate e materia sottoposta ad un ordine esistente che la mantiene ad uno stato stazionario. Nella definizione molto fisica, che non prevede anch'essa la presenza di DNA, evoluzione e quant'altro, quindi sono state tentate altre teorie più universali. Ad oggi la NASA prende come definizione della vita la seguente. La vita è un sistema chimico in grado di autosostenersi e che è capace di evolvere mediante il processo di selezione naturale. Parole chiave sono autosostenimento ed evoluzione, nonché sistema chimico. Quindi le nostre parole chiave sono queste qua. La vita è un sistema chimico, è un insieme di reazioni chimiche, anche ipotizzate da William Martin, un scienziato contemporaneo, deve sottostare necessariamente all'evoluzione, cosa che le definizioni precedenti non prevedevano, perché hanno molto più fisiche, e deve sottostare anche alla selezione naturale. Un organismo vivente, per essere definito tale, deve sottostare a questi tre parametri principali. Deve essere un sistema chimico, di essere in grado di evolversi e sottostare all'evoluzione, alla selezione naturale. Ok, benissimo. Adesso che abbiamo definito più o meno che cos'è la vita, perché comunque la definizione di vita è un dibattito ancora aperto, ci chiediamo quale vita gli astrobiologi, o noi in generale, i biologi, gli scienziati, cercano nel cosmo. Principalmente cerchiamo vita di carattere microscopico, quindi cerchiamo microrganismi. Perché cerchiamo i microrganismi? Perché in questo grafico possiamo vedere la storia geologica della Terra, che parte dal lato destro fino al lato sinistro del grafico. Si può vedere che per il primo miliardo di anni circa la Terra è stata inabitata. Dopodiché compare questa linea viola, che corrisponde alla comparsa dei primi organismi monocellulai pre-eucarioti. Questi hanno colonizzato la Terra per più di 2 miliardi di anni, ci sono stati soltanto loro, fino a che 2 miliardi di anni fa sono comparse le prime cellule eucariotiche. Dopodiché, a circa un miliardo e mezzo di anni fa, sono comparse anche le prime forme di vita multicellulare, nonché gli animali, le piante, i mammiferi e l'uomo e via così. Quindi, perché noi studiamo le forme di vita microscopiche? Perché sono le prime che hanno colonizzato la Terra, e quindi pensiamo che siano le prime che avrebbero potenzialmente colonizzato anche altri pianeti. Quindi, il punto chiave di questa slide è che, nello studio della vita nell'universo, si cercano organismi molto piccoli, microscopici, pre-eucariotici. Ma quali? Dato che all'inizio di questa presentazione abbiamo detto che il Sistema Solare e i pianeti del Sistema Solare, nonché i satelliti, sembrano essere ambienti estremi, nella ricerca della vita nel cosmo ci si concentra su organismi microscopici estremi. Quali di questi, ad esempio? Beh, principalmente ci concentriamo sugli organismi estremofili. Gli organismi estremofili si dividono in varie classi. Abbiamo, ad esempio, gli organismi acidofili, che sono organismi in grado di sopravvivere in condizioni molto acide, quindi a pH inferiore o attorno dall'1 al 3 o anche meno di 1. Organismi termofili, che sono in grado di sopravvivere ad alte temperature. Organismi alofili, che sono in grado di sopravvivere ad altissime concentrazioni di sale. Vivono praticamente in soluzioni che ricordano quasi la salamoia, la salamoia delle olive, per esempio. Organismi alcalifili, che al contrario degli organismi acidofili, sono in grado di sopravvivere in ambienti basici, molto basici. Esistono organismi xerici, che vivono in assenza di acqua, o comunque in piccolissime percentuali di umidità. Organismi radio resistenti, resistenti alle radiazioni UV, resistenti ai raggi gamma. E gli organismi psicofili. Gli organismi psicofili sono quelli che vivono in ambienti molto freddi. Quindi hanno degli optimum di crescita, non a temperature ambiente, ma a temperature inferiori. Un paio di esempi, giusto per darci un'idea. Il primo molto famoso è Pirococcus furiosus, che letteralmente vuol dire cocco, infuocato, furioso. Perché questo nome? Beh, coccus dà la forma, perché assomiglia a un cocco, viene definito coccile nel mondo della microbiologia. Pirococcus, piro, perché fuoco? Perché è stato isolato a vulcano, nelle isole Olie, che è un arcipelago idrotermale, termicamente attivo, vulcanico, e quindi a temperature molto elevate. È stato isolato lì e viene definito anche furioso, perché ha altissime velocità di replicazione. Comunque ha optimum di crescita a temperature maggiori di 100 gradi. O comunque sopravvive anche a temperature maggiori di 100 gradi. Questo non è un procariote, ma è un'archea. Mentre nel mondo dei batteri, ecco, non è un batterio, ma è un'archea, nel mondo invece dei batteri, un altro esempio di organismo estremofilo, quindi in grado di sopravvivere in condizioni estreme, è sicuramente il molto famoso Deinococcus radiodurans. Deinococcus radiodurans, il nome significa letteralmente terribile cocco resistente alle radiazioni, perché cocco ancora una volta, perché assomiglia a una forma rotondeggiante, a forma di cocco, radio resistente, perché? Perché è in grado di sopravvivere a dose di radiazioni che per l'uomo e per tutti gli altri organismi violenti sono letali. Ad esempio la sua scoperta è particolare, perché è stato scoperto nell'industria della carne in scatola. Intorno agli anni 50 si tentava di sterilizzare le scatolette con radiazioni gamma, quindi di eliminare ogni forma di vita potenzialmente patogena attraverso i raggi gamma, e si è scoperto che qualcosa sopravviveva e cosa sopravviveva Deinococcus radiodurans. Bene, ora che abbiamo visto quali organismi cerchiamo, partiamo da un assunto, partiamo da questa affermazione. Cerchiamo di dire che l'universo non è un luogo ospitale e il sistema solare sembra essere più unico che raro. Bene, il fatto che l'universo non è un luogo ospitale viene da sé. Nello spazio profondo nulla sopravvive, le temperature sono molto basse e ci sono le raggi gamma galattici, le venti solari e quant'altro, quindi situazioni molto estreme. Ma perché diciamo che invece il sistema solare è estremo, l'abbiamo capito, perché sappiamo che i pianeti del nostro sistema solare passano da temperature molto molto alte come Venere, a 400 e passa gradi, fino a Plutone, che siamo praticamente quasi allo zero assoluto, temperature molto sotto lo zero, lo zero Celsius. Ma perché diciamo che è più unico che raro? Vediamo questo grafico insieme. Concentriamoci sul grafico di sinistra. Allora, nel grafico di sinistra si possono osservare, in questi pallini blu, pallini rossi e pallini neri, gli esopianeti, quindi i pianeti fuori dal nostro sistema solare ma all'interno della nostra galassia, che è la Via Lattea, scoperti tramite diversi metodi, metodi tipo l'imaging, cioè proprio osservati, il metodo dei transiti o il metodo delle velocità radiali. Non ci interessa il metodo, ci interessa capire che esiste un trend, quindi esiste una linea di tendenza in cui i pianeti si trovano. Se noi guardiamo le rappresentazioni dei pianeti nel nostro sistema solare, come ad esempio la Terra, Giove o Saturno, vediamo che non stanno proprio sovrapposti alla tendenza di questo grafico, ma sembrano essere un pochino discostanti. Quindi, per quanto possiamo dire noi, guardando questo grafico, possiamo dire che il sistema solare e la Terra sembrano essere un'eccezione rispetto alla norma. Ma dobbiamo porci una domanda quando osserviamo questo grafico. Quanto abbiamo esplorato dell'universo? Noi stimiamo, si stima, che per ogni stella esista almeno un pianeta, ok? O, se non, un sistema planetario, come ad esempio è stato scoperto il sistema Trappist, che è stato un sistema planetario composto da più pianeti, ma si stima che per ogni stella esista almeno un pianeta. Le stelle sono, se l'universo è infinito, le stelle sono infinite, ma non abbiamo certezze sull'infinitezza dell'universo, però sappiamo che ce ne sono miliardi, miliardi di miliardi di stelle. Quindi ci chiediamo, quanto abbiamo esplorato ad oggi? Prendiamo uno dei telescopi spaziali, ne esistono diversi, i più famosi sono Kepler, TESS e adesso James Webb Space Telescope, ma prendiamo i dati di Kepler. Kepler, solo per fare un esempio, Kepler in dieci anni di esplorazione spaziale ha osservato quasi mezzo milione di stelle, ha osservato circa 530.000 stelle. E quanti pianeti ha osservati in queste 530.000 stelle? Poco meno di 3.000, soltanto 2.662 pianeti sono stati confermati da Kepler. Ad oggi sappiamo che gli esopianeti scoperti sono circa 5.000, ma le stelle osservate sono state molte di più. Vediamo un po' di capire quanto effettivamente Kepler ha osservato. questa è la via latta. Se noi ipotizziamo di essere in quel minuscolo triangolino dove c'è scritto You are here, noi siamo proprio lì. Quanto ha osservato Kepler della nostra galassia? Ma in realtà nulla, ha osservato questo piccolo triangolino, un triangolo veramente microscopico. Quindi, il grafico che noi abbiamo visto prima in cui ci dice che il sistema solare sembra essere un'eccezione, andrebbe rivisto alla luce dei fatti che abbiamo osservato molte poche stelle in questo momento, abbiamo scoperto soprattutto pochi esopianeti. Però, per quello che sappiamo noi, per quello che sappiamo ora e noi, possiamo dire questo. Ma, noi abbiamo detto che l'universo è un ambiente estremo, è composto da ambienti estremi, ma vediamo qualche pianeta che ha scoperto Kepler. Alcuni esempi molto particolari sono questi. Il primo è Wasp 76b. Wasp 76b è un pianeta che mostra sempre la stessa faccia alla sua stella, ok? Quindi, un lato sarà molto caldo mentre l'altro lato sarà molto freddo. Le temperature su questo pianeta sono in grado di far sublimare il ferro, che, quando si trova all'interfaccia tra il lato diurno e il lato notturno del pianeta, è in grado di precipitare sotto forma di ferro liquido. Quindi, questo pianeta, basandoci su queste anche immaginette carine della NASA, si può dire che è un pianeta in cui piove ferro. Effettivamente, piove ferro. E direi che se piove ferro è un ambiente molto estremo, non che è molto caldo. Ma vediamone un altro. Un altro pianeta di questo tipo è PSO J318.5 Barrier 22, che è un pianeta definito interstellare, cioè, è un pianeta che vaga in assenza di una stella. Vaga nello spazio, non ha una sua stella in cui orbita, e, sempre secondo queste immagini della NASA, viene definito il pianeta in cui la notte dura in eterno, perché appunto, non avendo una stella, sarà sempre buio e quindi probabilmente molto molto freddo. Un sistema invece particolare, che mi piacerebbe mostrarvi perché mi ricorda il famoso film Guerra e Stellari, è il sistema Kepler-16b. Il sistema Kepler-16b è un pianeta che orbita intorno a una stella binaria, quindi al posto di orbitare intorno a un solo Sole, orbita intorno a due stelle. Quindi, su questo pianeta, se noi dovessimo vedere la nostra ombra, non sarebbe mai sola, avremmo due ombre. Un po' come, appunto, come vi citavo Guerra e Stellari, potrebbe ricordare il pianeta Tatooine, molto famoso per Musa Ice e quant'altro. Ma, ora che abbiamo capito che i pianeti, o la maggior parte dei pianeti che sono stati scoperti ad oggi, sono molto estremi, ci chiediamo, ma la Terra è anch'essa un ambiente estremo? Andiamo a definirla un ambiente estremo, ma cerchiamo di capirlo assieme. Vedendola così, vedendola sotto questo aspetto, la Terra non sembra un ambiente estremo. Se la vediamo da vicino, si notano zone verdi, zone marroni, zone rosse, zone ocra. Le zone verdi sappiamo benissimo che corrispondono alla vegetazione, le zone blu all'acqua, le terre emerse, quant'altro. E sappiamo che la vita è presente. Quindi, per quanto possiamo dire in questo esatto momento, la Terra non sembra essere un ambiente estremo. infatti, anche la NASA l'ha definita come un oasi nello spazio. Ma, vediamo la Terra da un altro punto di vista. Questa è sempre la Terra, soltanto che la stiamo vedendo dal centro dell'oceano Pacifico. Non vediamo più le terre emerse, non vediamo più la vegetazione, non vediamo più niente. Potrebbe ricordare quasi i pianeti oltre Giove, quindi Urano e Nettuno, una palla blu, una palla verde, dipende appunto dalla radiazione luminosa, in questo caso una palla blu. E non so se noi immaginiamoci di essere nello spazio e la vedessimo potremmo dire che è proprio un ambiente ospitale. Cerchiamo di vedere qualche parametro chimico-fisico terrestre. Allora, possiamo dire che la Terra sembra essere abitabile, cioè è abitabile, sembra essere un ambiente non estremo, oppure no. Vediamo un attimo. Allora, sappiamo che il 70% della superficie terrestre è coperta dagli oceani. Gli oceani hanno una profondità media di 3682 metri. Ovvio che abbiamo la fossa delle Marianne che è molto più profonda, oppure la spiaggia in cui l'acqua ovviamente non è profonda, possiamo benissimo camminarci. È una profondità media. La temperatura media invece degli oceani è intorno ai 4 gradi centigradi. Ok? Abbiamo zone in cui la temperatura è molto più alta, vicino ai camini idrotermali e zone in cui la temperatura è circa intorno allo zero nelle regioni polari. Ovviamente un pochino di più per la concentrazione di sale, altrimenti congelerebbero, ma la temperatura media dei nostri oceani è 4 gradi. Allora invece delle terre emerse sappiamo che la superficie abitabile, quindi tutta la parte in cui è stata trovata la vita e in cui la vita è presente, si estende circa per 10-20 km addirittura in profondità, non solo sulla superficie ma in profondità terrestre si può estendere per circa 10-20 km. Ad esempio si è scoperto che nelle zone di subduzione è possibile la presenza di alcuni organismi ad esempio metanogeni che producono metano, che comunque producono gas che possono essere rilevati dalla superficie terrestre in alcuni siti particolari presenti sulla Terra. La temperatura media di questa profondità quindi della superficie terrestre, analizziamola così senza entrare negli strati sotto la crosta, quindi senza entrare nel mantello o nel nudo, limitiamoci alla crosta, la temperatura è ipotetica esoterra ma sta intorno ai 150 gradi. Inoltre c'è da dire come abbiamo visto all'inizio che la Terra è stata per più di un miliardo di anni inabitata, non c'è stato niente, per circa un miliardo di anni non c'è stato niente. Oggi però sappiamo che sulla Terra non esiste praticamente nessun luogo in cui la vita non è presente. All'ilà del magma all'interno dei vulcani o alcune zone che non si è ancora ben capito in Antartide che sembrano essere privi di vita possiamo dire che la vita sulla Terra è presente ovunque. Quindi da questa slide possiamo dire che la Terra è un ambiente estremo oppure no? Ma vediamo un altro slide. Possiamo dire che la Terra non è un ambiente estremo di per sé ma sulla Terra sono presenti numerosi ambienti estremi alcuni artificiali che ostruiti dall'uomo altri naturali. Prendiamo ad esempio le regioni polari le regioni polari sono molto fredde sono ambienti estremi per l'essere umano sempre se consideriamo appunto la parola estrema rifeita all'essere umano ovviamente i microorganismi che vivono lì non lo considerano un ambiente estremo lo considerano un ambiente normale ma vediamolo da un punto di vista antropocentrico quindi la Terra è composta da numerosi ambienti estremi come ad esempio il permafrost delle regioni polari gli hydrotermal vents quindi i camini vulcanici sottomarini i vulcani stessi le fumarole ad esempio gli Yellowstone o i laghi i persalini oppure ambienti artificiali come ad esempio gli acid mine drainage che sono gli scarichi acidi delle miniere quindi le miniere abbandonate che scaricano all'interno di questi fiumi alte concentrazioni di metalli tossici e acidità oppure gli scarti radioattivi delle centrale nucleare sono comunque ambienti creati dall'uomo che sono sicuramente estremi vediamo i parametri appunto prendiamo ad esempio le regioni polari le abbiamo prese poco fa riprendiamole la temperatura nelle regioni polari passa dai meno 98 gradi ai 24 quindi dei range di temperature molto elevati in cui il picco più basso è veramente molto basso l'uomo fatica a sopravvivere a temperature molto così basse deve consumare grandi quantità di energia per poter sopravvivere ma o se no prendiamo ad esempio potete guardarla la tabella ma prendiamo soltanto giusto qualche esempio nell'ultima riga possiamo vedere i mine drainage gli acid mine drainage possiamo vedere che nel valore del pH il pH addirittura è negativo alle scuole superiori vi insegnano che il pH va da 1 a 14 in realtà il pH può essere anche negativo un pH negativo sicuramente non è un ambiente consono per la crescita della vita eppure anche in questi sistemi in alcune particolari zone la vita è presente se prendiamo ad esempio invece le zone di subduzione o gli ecosistemi di subsurfaces la salinità può andare da congenerazioni normali addirittura alla saturazione ambienti molto salini tendono a distruggere le cellule e nonostante questo anche in questi sistemi la vita è presente quindi adesso possiamo affermare che la terra non sembra essere un ambiente estremo ma è sicuramente composta da numerosi ambienti estremi vediamone qualcuno giusto per fare un viaggio immaginario sul nostro pianeta negli ambienti estremi del nostro pianeta allora ci troviamo adesso in Africa ci troviamo in Etiopia nella depressione della Dancaglia nella zona della Far e quello che vediamo appunto con questa forma rotondeggiante è il vulcano Dallol il vulcano Dallol è un luogo particolare perché? perché si trova vicino a un altro vulcano che si chiama Ertheil il quale è attivo tutto l'anno è uno di quei vulcani uno di quei quattro vulcani sulla superficie terrestre in cui si può vedere il magma liquido i vulcani a cui siamo abituati noi non presentano vulcano sempre attivo all'interno della caldera si attivano sporadicamente come ad esempio l'Etna oppure per fortuna molto raramente come il Vesuvio Campi Flegrei e quant'altro vabbè parlando del vulcano Dallol perché è un luogo particolare? come potete vedere dall'immagine nella zona sud del vulcano Dallol è presente questa linea gialla gialla e verde che corrisponde da un punto di vista visivo a questo ambiente qui un ambiente quasi psichedelico molto colorato molto molto particolare in cui si possono vedere depositi di zolfo depositi di idrossidi di ferro e acque verdognole o blu molto acceso che corrispondono ad acque ricche molto ricche di sali e molto acide e quindi questo è uno di quegli ambienti che abbiamo appunto definiti estremi che possiamo ritrovare sulla Terra perché ve lo mostro? perché anche in questo ambiente che è il luogo più caldo della Terra la temperatura media risulta tutto l'anno intorno ai 50 gradi centigradi è presente la vita anche qui è presente la vita in condizioni di temperatura salinità e concentrazioni di metalli molto elevate la vita è presente ovviamente si parla di vita microbica come dicevamo all'inizio di questa presentazione perché studiamo un sistema di questo tipo? un sistema di questo tipo lo studiamo perché sotto alcuni aspetti cosa ricorda? ricorda un pianeta del nostro sistema solare c'è un pianeta del nostro sistema solare molto caldo molto acido con elevate presenze di zolfo questo pianeta è il pianeta Venere Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare in cui trovano piogge molto acide composte da acido solfidico e acido solforico che probabilmente riprecipita sotto forma di zolfo e quindi potrebbe ricordare il vulcano d'Alo in Etiopia ovviamente il vulcano d'Alo in Etiopia non ha temperature così elevate per fortuna però sotto alcuni parametri chimico-fisici e ripeto alcuni non tutti è un ottimo laboratorio naturale per testare che cosa gli esperimenti che in futuro potremmo fare sul pianeta Venere oppure studiare come la vita si possa originare in ambienti analoghi a quelli venusiani spostiamoci spostiamoci però adesso in un altro continente spostiamo verso Sud America nell'immagine si può vedere tutta questa serie di dune questa serie di dune corrisponde al deserto di Atacama che troviamo quindi in Cile il deserto di Atacama è il deserto più antico presente sulla superficie terrestre nonché il più arido ma nonostante sia il più arido l'immagine che vi mostro adesso presenta acqua ogni tanto nel deserto di Atacama piove e quando piove succedono due cose principali esistono delle piante che sono in grado di sopravvivere a concentrazioni di umidità a concentrazioni di acqua molto molto basse e quando piove nel deserto di Atacama queste piante muoiono quindi sono piante è un ambiente che a noi sembra estremo ma come dicevo prima per alcuni organismi non lo è e quando diventa per noi ospitale per altri organismi vuol dire morte ma nonostante questo le piogge nel deserto di Atacama apportano anche un'altra cosa sono degli ottimi bacini di riproduzione per uccelli migratori come ad esempio i fenicotteri sicuramente molti di voi avranno visto dei documentari su Netflix ce n'è uno in cui viene appunto presentata la mezz'ora di riproduzione i laghi ipersalini del deserto di Atacama in Cile comunque tendenzialmente durante tutto l'anno la pioggia non è presente ed è appunto il luogo più arido presente sulla superficie del nostro pianeta esistono molte zone in cui la concentrazione di sali è elevatissima perché appunto queste acque quando si prosciugano risultano ipersaline e anche qui la vita è presente oltre a questo il deserto di Atacama è un ottimo luogo per gli studi di tipo astrofisico e astronomico che è perché non presenta la presenza di luce artificiale e inoltre si trova nell'emisfero sud l'emisfero sud ci sono delle particolari luoghi del cosmo che si possono osservare e quindi è diventato un luogo di pellegrinaggio nonché una meta molto importante per astronomi e astrofisici nella foto potete vedere appunto dei radiotelescopi presenti nel deserto di Atacama in una classica nottata e potete benissimo capire da voi che il cielo deve essere magnifico al di là di questo perché vi dico del deserto di Atacama? il deserto di Atacama viene spesso utilizzato come laboratorio naturale per gli esperimenti che faremo dopo faremo sul pianeta Marte nel deserto di Atacama vengono testati i rover e lenders che andranno poi sul pianeta rosso e viene usato come analogo planetario permettetemi il termine analogo anche se analogo vuol dire che tutti i parametri sono simili ma analogo planetario del pianeta Marte quindi lo studio della vita nel deserto di Atacama potrà aiutarci a comprendere la presenza o l'assenza di vita sul pianeta rosso il focus quindi la concentrazione dei ricercatori in questo momento è sulle grotte presenti nel deserto di Atacama perché probabilmente la vita potrebbe essersi sviluppata su Marte all'interno di grotte protetti quindi dalle radiazioni che sono letali magari protetti anche da temperature e nelle grotte potrebbe esserci la presenza di acqua liquida passiamo dalle terre emerse ci muoviamo verso gli oceani questa mezza luna che si può vedere al centro dell'immagine è la dorsale del pacifico orientale è una zona di cammini idrotermali sottomarini una zona di in cui le placche le placche terrestri si scontrano e scontrandosi provocano la produzione di vulcani sottomarini questi vulcani sottomarini prendono il nome di black smokers o white smokers in questo caso vediamo di black smokers e come si come come li vediamo dal vivo beh queste sono delle foto fatte con dei battiscafi che hanno raggiunto queste altissime profondità intorno ai 2000 metri e sono appunto dei cammini sembrano appunto delle dei pennacoli che fuoriescono dal fondale dal fondale abissale e da questi fuoriesce acqua molto molto calda acqua molto calda che a contatto con l'acqua fredda presente nei fondali oceanici permette la precipitazione di alcuni sali alcuni sali di zolfo alcuni sali di ferro alcuni sali in generale la precipitazione di questi di questi sali permette la produzione di enormi comunità microbiche intorno a queste zone in queste zone molto molto calde in cui la temperatura sta intorno ai 400 gradi ma oltre alla vita microscopica si è scoperto che queste zone sono ricche di vita anche macroscopica un esempio è alvinella pompeiana questo verme di Pompei che possiamo vedere in figura che è un organismo estremofilo una parte del suo intero organismo si trova a temperatura intorno ai 200 gradi mentre l'altra parte si trova a temperatura intorno ai 4 gradi quindi all'interno di un singolo organismo abbiamo un enorme range di temperature quindi in queste zone non è presente solo la vita microscopica ma anche la vita macroscopica si pensa addirittura che i camini idrotermali gli etrotermal vents tutti questi sistemi idrotermali siano stati quelli in cui la vita ha avuto proprio origine cioè l'origine della vita si pensa sia avvenuta in questi luoghi tramite processi che si chiamano processi di serpentinizzazione in cui le rocce rilasciano ferro e quant'altro non è il focus della nostra discussione ma si pensa che siano luoghi in cui la vita ha avuto origine facendo il nostro giochino del paragonarli a ambienti del nostro sistema solare a cosa possiamo paragonare questo ambiente sicuramente al satellite molto famoso che è Encelado Encelado è un satellite ghiacciato in cui la superficie è tutta ghiacciata sotto la quale si pensa che esista un oceano di acqua liquida in fondo a questo oceano di acqua liquida si pensa che ci sia la presenza appunto di camini idrotermali sottomarini se ci fosse la presenza di questi luoghi potenzialmente ma non assolutamente potrebbe essere presente anche la vita è noto che su Encelado o Encelado come volete si producono dei plums dei plums sono degli enormi geyser che partono dalla superficie del pianeta rilasciano acqua liquida dal di fuori la sonda alcune sonde che partiranno in futuro avranno come scopo appunto studiare la composizione chimico-fisica di questi plums per comprendere se ci fosse la presenza di molecole di origine biotica non molecole organiche ma molecole di origine biotica cioè molecole che sono esclusivamente di produzione degli esseri viventi parlando sempre di ambienti freddi ci spostiamo verso il continente ci spostiamo in questo luogo ghiacciato che è il continente artico continente artico anche esso magnifico probabilmente da visitare ambiente molto molto freddo ancora una volta paragonabile a cosa alla superficie di altri satelliti del nostro sistema solare ad esempio Europa Europa è un satellite gioviane è un satellite galileiano insieme a io Ganimede e Callisto anche esso si pensa che sotto la superficie ghiacciata sia presente un oceano liquido quindi studiare gli ultimi due sistemi che abbiamo osservato potrebbero essere degli ottimi laboratori naturali per comprendere se la vita su questi satelliti ghiacciati è possibile vediamo una panoramica rapida di alcuni degli ambienti estremi che si possono utilizzare per studiare la vita nel sistema solare potete vedere che ce ne sono diversi sono divisi per colore abbiamo quelli rossi marziani quelli blu analoghi di satelliti ghiacciati in verde abbiamo gli analoghi venusiani abbiamo gli analoghi di titano titano è anch'esso un satellite in cui c'è la presenza di oceani di idrocarburi abbiamo analoghi della terra primordiale quindi comprendere come la vita sia nata sulla terra ma terra primordiale intendo quando è ancora praticamente una palla di magma quindi studiare alcuni vulcani per capire la storia geologica del nostro pianeta abbiamo gli acid mine drainage che sono alcuni dei siti interessanti per degli sviluppi futuri biotecnologici nell'applicazione dei microrganismi nella colonizzazione dello spazio nello specifico in un approccio che si usa che si chiama utilizzo delle risorse in situ che ha come scopo ultimo utilizzare le risorse direttamente sui pianeti che andremo a colonizzare o sulle lune come ad esempio la nostra luna o marte senza portare le risorse della terra che sarebbe un processo prima di tutto dispendioso economicamente e soprattutto non sostenibile quindi possiamo vedere da questa mappa che il nostro pianeta e questi sono soltanto alcuni dei luoghi estremi presenti sulla terra il nostro pianeta è costellato di ambienti estremi quindi questi ambienti estremi possono essere utilizzati come dei laboratori naturali senza ricreare alcune condizioni in laboratorio per appunto studiare la vita qui e altrove bene una volta capito questo una volta capito che la terra appunto è composta da un insieme di ambienti estremi ci chiediamo ma quali sono i limiti chimico-fisici in cui possiamo trovare la vita sulla terra mando quindi un attimo al mondo microscopico al mondo dei microrganismi possiamo vedere che a pH minore di 3 ad esempio esistono organismi che vengono definiti iperacidofili abbiamo organismi che vivono praticamente ad ogni condizione di pH da pH minore di 3 a pH maggiore di 11 cambierà il nome ovviamente della classe di microrganismi ma anche organismi che sono in grado di sopravvivere a temperature minore dei 20 gradi centigradi o maggiore degli 80 salinità minore dell'1,2% fino a quasi alla saturazione pressioni molto elevate organismi barotolleranti che sopravvivono in fondo ai nostri fondali oceanici e poi esistono anche organismi che vengono definiti poliestremofili cioè sono in grado di sopravvivere a differenti condizioni estreme vediamo un po' però i parametri chimico-fisici del nostro pianeta e dopo di che vediamo dove possiamo trovare la vita allora in questo grafico e si legge su quattro assi possiamo vedere i parametri chimico-fisici della terra prendiamo ad esempio l'asse della temperatura quello che si trova in basso ci dice che sulla terra sono presenti ambienti che vanno dai meno 100 gradi a circa i 500 gradi se prendiamo ad esempio la scala del pH che si trova sulla destra in questo grafico sappiamo che sulla terra ci sono sistemi che vanno da meno circa meno 4 unità di pH fino a quasi a 14 se guardiamo la pressione misurata in megapascal possiamo vedere che va da circa 0,1 a quasi 1000 megapascal e idem per la salinità guardando questo grafico possiamo vedere i limiti chimico-fisici della terra ora vediamo dove possiamo trovare la vita aggiungiamo a questo grafico i parametri in cui è stata scoperta la vita sulla terra e cosa osserviamo? che la vita è presente praticamente in qualunque sistema terrestre uno dei parametri che più limita la vita è sicuramente la temperatura perché noi abbiamo detto che la temperatura sulla terra va dai meno 100 gradi fino a circa i 500 la vita si è scoperto che esiste da circa i meno 10 meno 20 gradi fino ai 140 180 di più non è ancora stato scoperto nessun organismo ma per ognuno di questi assi possiamo vedere che la vita che è il nostro quadrato verde è la nostra figura verde si sovrappone su più parametri addirittura possiamo vedere nell'angolino in alto a sinistra che abbiamo trovato abbiamo scoperto che la vita è in grado di sopravvivere anche al di fuori dei parametri che abbiamo sulla terra quel piccolo angolino cosa corrisponde? corrisponde a degli esperimenti che sono stati fatti sulla spazione staziale orbitante sulla ISS sono stati fatti in condizioni di microgravità dove la pressione è veramente praticamente nulla e anche lì la vita è stata in grado di sopravvivere vita microbica ma anche non solo anche piante tardigredi e quant'altro sono stati in grado di sopravvivere e quindi la vita possiamo dire che è molto adattabile qual è una delle ricerche future che gli astrobiologi e comunque gli scienziati in generale vorrebbero portare avanti è applicare questo quadrato verde questa figura verde anche agli altri pianeti per ogni pianeta abbiamo più o meno per quanto ne sappiamo per quanto abbiamo esplorato dei parametri chimico-fisici ad esempio su Marte sappiamo che la temperatura va dai meno 140 a poco più dei 20 gradi centigradi o su Venere sappiamo che va da meno 50 gradi a circa 470 e cerchiamo in futuro di riuscire a studiare la figura verde che abbiamo visto prima quindi i limiti chimico-fisici della vita applicabili a questi grafici quindi applicabili anche ad altri pianeti ad altri sistemi ad altri pianeti nel nostro sistema solare pianeti e satelliti tutto questo tutto questo che abbiamo detto può essere riassunto nella parola che abbiamo visto all'inizio nella parola astrobiologia l'astrobiologia quindi è lo studio di tutto questo è uno studio multidisciplinare che si occupa di capire come la vita sia distribuita nel cosmo come ha avuto origine e come la possiamo utilizzare da un punto di vista biotecnologico per il supporto nella colonizzazione dello spazio da parte dell'uomo tutto questo è astrobiologia ora qual è l'ultima cosa che ci chiediamo o che meglio vi chiediamo è qualcosa da parte vostra ad esempio potrebbe essere lo sviluppo o l'ipotesi di un organismo che si può ritrovare in un determinato ambiente ad esempio sapendo che non lo so venere è un sistema molto molto caldo si potrebbe fare una ricerca in letteratura un iniziale lavoro di ricerca in letteratura per capire quali microrganismi estremofili quindi ipertermofili e termofili sono in grado di sopravvivere a temperature così elevate oppure a temperature molto basse se noi studiamo i microrganismi o anche gli organismi eucariotici come ad esempio i tardigradi come dicevamo prima o altri altri organismi modello come questi possono sopravvivere se questi sopravvivono in ambienti polari ad esempio come possono sopravvivere su un satellite ghiacciato quindi lo scopo ultimo di questa presentazione è cercare di darvi una panoramica prima di tutto sulla vita l'origine della vita l'astobiologia e dopodiché rendervi in grado di fare un'analisi critica di come gli organismi siano in grado di adattarsi a differenti sistemi planetari tutto questo tramite l'analisi della letteratura quindi quello che dovreste far voi è tramite l'analisi della letteratura quindi tramite qualche piccola ricerca determinare quali microrganismi possono sopravvivere in quali ambienti un paio di esempi oppure ipotizzare altri ambienti in cui questi organismi potrebbero sopravvivere quindi una piccola ricerca sugli organismi estremi sugli ambienti estremi e sulla vita stessa con questo io ho concluso vi ringrazio e spero che vi sia piaciuta la presentazione e che sia di vostro interesse l'argomento con questo grazie mille